Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi facciamo un'altra piccola spiega di un'altra particolarità dei sistemi dell'Arier. Parliamo dell'ARBS, ne abbiamo già parlato in modalità TV, oggi ne parliamo in modalità LST, cioè Laser Tracking. Il sensore, quello che è sul muso dell'aereo, è un ricevitore laser, quindi è in grado di ricevere e rappresentarvi sulle DAB display un bersaglio che viene marcato da un marcatore esterno, da un JTAC, che può essere aerotrasportato o che può essere a terra. Quindi vi permette di fare il bodylase anche con altri vostri compagni che hanno un marcatore laser attivo. Quindi ho preparato una missione in cui andiamo a colpire alcuni bersagli a terra nel nostro solito poligono, utilizzando questo sistema. Caricherò dei Maverick e delle bombe laser guidate. E utilizzeremo una cosa che utilizzo sempre io per creare le mie missioni, che è il Moose Framework, che mi permette anche di utilizzare un sistema DJTAC molto efficace. Quindi vado a prepararmi per la missione. Prima cosa, il carico. Facciamo il rearman refuel. Io ho già dei miei carichi predefiniti, tutto sommato abbastanza aderenti a quello che può essere la realtà di utilizzo. Anche se ormai oggigiorno si utilizzano la metà dei carichi che siamo abituati a utilizzare in DCS. E poi mi preparo la missione. Nel senso che attivo il radiomenu e attraverso il radiomenu con il Moose Framework posso controllare alcune attività, alcuni setting che ho, che mi servono, che è quello del sistema di misure, che ovviamente noi utilizziamo il sistema imperiale. e poi vado a attivare la mia missione. Io col Moose Framework ho la possibilità di creare un mondo attivo. ci sono CAP che si attivano da sole, missioni che si attivano da sole, un sistema di difesa contraerea che spawna in certe posizioni random, SAM o AAA, e anche un sistema, a mia volta, sia difesa nemica sia difesa amica. Quindi questi interagiscono tra loro e sentirete per radio che succedono cose per conto loro senza che noi le stiamo tanto a controllare, ma che aggiungono parecchio a quello che è la nostra missione. Qui, tra le varie missioni che il quartiere generale mi dà disponibile, c'è la nostra, il nostro poligoro che io attivo e mi dà delle informazioni sulla posizione del bersaglio. Nel frattempo ci siamo caricati l'aereo e possiamo cominciare la procedura di accensione del nostro scuterino. questa c'è la bella, ma anche questo lo tiriamo su. Batteria, parametri, primo check se tutte le lucine funzionano e ci siamo. Radio, ok, pompe, shoot-off generale, linea estione elettronica, l'ossigeno che ci serve sempre, il master delle luci, l'anticollisione, che in teoria si dovrebbe accendere, ma qui non lo fa per avvertire tutti che stiamo per accendere i motori, le levette di ci sono, ok, possiamo attivare l'accensione, facciamo un bel crancone, andiamo a controllare i parametri del motore, che si stiano muovendo, sì, sì, gli RPM 9%, e pressione al massimo, e quindi possiamo far partire il motore, prima però chiudiamo il cockpit, tiriamo avanti la leva, e si appiccia il motore, nel frattempo, attiviamo il sistema inerziale, che per fortuna non ci fa aspettare, quei tre minuti di rottura di coglioni, questo tra l'altro anche nella realtà, rottura di coglioni inteso, qui ci siamo, il motore, il RPM 50%, gli RPM del fan 29%, e la temperatura sotto i 400%, ci siamo, e ci prepariamo per il decollo, allora, attiviamo i flap, li mettiamo in VTOL, questo è già pronto, questo è già pronto, luce di posizione, sì, attiviamo anche le luci di formazione, anche se siamo soli, e direi che siamo pronti, per il decollo, controlliamo fuori l'armamento, c'è tutto, e via verso nuove avventure, diamo dei colpi di NWS, così se per caso il ruotino è girato, si mette dritto, freni, test motore, niente, perché? perché non abbiamo tolto il freno, tac, abbiamo tolto il freno, visto perché si fa il test motore, 50, 55, ok, giù a 300, non è successo niente di grave, nel frattempo, quindi siamo a posto, motore al 50%, facciamo salire i giri, i giri stabili, tutto motore, molliamo i freni, nozzle sullo stop, tiriamo sul muso, gear up, nozzle a 50, 130, nozzle a 30, facciamo accelerare, togliamo il nozzle e il flap da stall, e ci mettiamo in forma, in funzione nav, e mettiamo l'autopilota, controlliamo che tutto sia ok, no, perché non è andato su, il flap ci siamo a posto, non capisco perché ogni tanto, non vi becca il tasto, finiamo di configurare il cockpit, attiviamo l'RVR, attiviamo il dispenser di chaff e flare, master armor su on, visto che andremo a fare del casino, qua è tutto ok, possiamo spegnere le luci, e ci siamo, e andiamo a virare verso il waypoint 1, incominciamo a configurare le armi, in particolare il maverick, che ha bisogno di un po' di tempo per scaldarsi, quindi andiamo, menu, stores, selezioniamo, anzi, andiamo in autogramma, prima scusate, IRMV, qui dice weapon fail, ma è solamente un bug, per ora verrà risolto, e pigiamo l'uncage, in questo modo, parte il sistema di raffreddamento della testa, di ricerca, e diciamo si scalda, anche se in realtà si raffredda, andiamo verso il waypoint 1, quota target, facciamo 8000 che va più che bene, e nel frattempo, diamo il codice all'LST, il codice del laser, l'abbiamo già fatto quando abbiamo utilizzato il targeting pod, lo rifacciamo adesso, pigiamo su code, e gli diamo 1688, che è il codice che sta usando il JTAC adesso, facciamo enter, andiamo verso il nostro waypoint, sono decisamente andato abbondante, anche come altitudine, come vedete ho già attivato l'LST, questa è la simbologia, del nostro ricevitore laser, qui vedete la testa che si muove a destra e a sinistra, praticamente quella specie di telecamerina che c'è sullo muso dell'aereo, si muove a destra e a sinistra per andare a cercare bersagli, andare a cercare il segnale del laser, il laser stesso. Noi ce l'abbiamo wide, lui cerca per un ampio spettro, abitualmente io lo utilizzo in narrow, perché praticamente corrisponde a quello che vedi sull'adapt display, che poi sostanzialmente è quello che ti interessa, perché è quello che ti vedi passare davanti. Stiamo sbisciolando un po' perché siamo distratti, vedete sull'adapt display il simbolino che rappresenta la nostra telecamera, che si muove a destra e a sinistra. Sì, è che sta cercando, è come quando per esempio con gli AM9, con tutti gli altri aerei fatte l'uncaged, e la sua testa comincia a girare random, perché così ha un più ampio spazio per andare a cercare bersagli. Stessa cosa. Vado a virare sul nostro primo waypoint. Nel frattempo, vedete là in altra sinistra, il nostro JTAC, il nostro command center creato con MUSE, ci dà informazioni sulla nostra missione, sul bersaglio della nostra missione. E ci dice la tipologia di bersagli e la tipologia della minaccia che può avvenire dai bersagli stessi. Di solito se dentro c'è un sum, i quadratini sono una decina. Andiamo a controllare, stiamo andando sul nostro waypoint 1. Allora, come dicevo prima, per selezionare il nostro RBS in LST, non faccio altro che fare Sensor Select Down. La prima volta mi compare la RBS in forma TV, come abbiamo visto la scorsa volta. Un'altra volta ci compare in formato LST, schermo nero per ora con il simbolino della testa che cerca. Sull'UFC ci compare, per ricordarcelo, il codice del laser. Noi possiamo tornare in NAV in qualsiasi momento per sapere a che distanza siamo dal nostro waypoint. Facciamo Sensor Select Left per tornare nella funzione navigazione dell'head-up display, dell'HSI. Siamo ancora sul waypoint 1. Allora, una cosa, quando si utilizza il ricevitore laser e si fa il bad delays, è che noi dobbiamo cominciare i nostri attacchi sempre dal lato da cui parte il laser. Nel senso, noi dobbiamo tenerci il nostro spotter tra noi e il bersaglio, perché ovviamente il laser rimbalza e torna indietro. Se noi siamo dalla parte opposta, il laser rimbalza e torna indietro, noi siamo dall'altra parte, facciamo fatica a riceverlo. Non so quanto questo sia simulato bene qui su DCS, però in una buona percentuale dei casi come regola questa funziona. ci siamo distrati un attimo e ritorniamo sul nostro waypoint 1, che è la zona da cui dovranno partire gli attacchi, anzi, switchiamo, l'abbiamo superato, switchiamo sul waypoint 2. Vediamo se l'Avox ci dice che sta succedendo qualcosa di strano. Siamo a poca distanza del waypoint 2 e quindi possiamo switchare già sul waypoint 3, che è quello del nostro bersaglio, ci mettiamo in air to ground. appicciamo il nostro maverick che si è scaldato barra raffreddato e siamo pronti per fare il nostro attacco. Chiamiamo il nostro command center e gli diciamo di attivare il JTAC per laserare e facciamo auto-lase off. Vedete? Marking T-72. Di solito cominciamo a marcare il bersaglio più pericoloso. Togliamo l'autopilota, viriamo sul nostro bersaglio, diamo a motore sensor select down una volta a ReBS TV un'altra volta siamo in ricezione laser e viriamo verso 174 dove c'è il nostro bersaglio. Mano a mano che ci avviciniamo di solito sotto le 10 miglia cominciamo a ricevere il laser per il body lasing. Eccolo TAC marcato. L'unica cosa il ricevitore non rimane sul bersaglio per sempre. Quindi di solito capita che prima di arrivare sul bersaglio lo si perde e quindi si fa altro che fare sensor select down un paio di volte e si ritorna. Quando siamo sotto le 7 miglia passiamo il bersaglio sensor select up al Maverick ora DAC sensor select push TDC push e pronti a sparare e via possiamo già evadere ovviamente col Maverick lo si fa sempre non abbiamo bisogno di tenere marcato il bersaglio tutte le armi laser guidate o marcate dal laser sono spari di identica nel frattempo andiamo a vedere cosa sta succedendo al nostro missile e sta andando dritto dritto sul bersaglio nel frattempo noi abbiamo evaso siamo tornati in safe zone boom bersaglio colpito facile no? cantando bonzi bonzi bo ti piace vincere facile e ritorniamo nella nostra safe zone switchiamo con sensor select up il Maverick off e siamo tornati in LST io consiglio sempre di fare un reset totale con il pulsantino quello che ci permette anche di ruotare il ruotino a terra che funziona anche come reset totale riattiviamo l'LST e riviriamo verso il bersaglio adesso se notate sopra il nostro JTAC sta marcando un altro un altro bersaglio un BTR80 nella fattispecie si dice ancora fattispecie ci ha marcato il bersaglio ovviamente una volta preso il bersaglio la RBS si switcha in modalità tv per farvi per farvi fare un riconoscimento del bersaglio visivo siamo sotto sensor select up TDC down cioè push spariamo ed evadiamo e andiamo a vedere cosa sta facendo vedete sta succedendo già qualcosa da altre parti si stanno sparando tra di loro c'è la guerra da altre parti della mappa noi guardiamo il nostro bersaglio wow mai abbassare la guardia boom bersaglio colpito senza che noi dovessimo fare niente di particolare attiviamo per un attimo l'autopilota e andiamo a selezionare l'LGB l'LGB l'armiamo e la spoletta interna e poi possiamo usare volendo qualsiasi tipo di di sistema di rilascio automatico ccp io con le armi laser guidate preferisco il dsl tanto non serve un'eccessiva precisione anzi perché faremo una cosa simpatica dopo facciamo il metodo adesso tradizionale togliamo l'autopilota e andiamo verso il nostro bersaglio sensor select down quindi riattiviamo il ricevitore laser lst il bersaglio è già stato marcato e facciamo il nostro solito attacco da 5000 piedi pontiac 381 overlord bra 031 470 att 18000 flanking pontiac 381 overlord bra 029 470 att 18000 flanking vedete ha mollato il target dobbiamo rifarlo però ci torna subito facciamo un bel piccolo e questa volta siamo belli liberi di evadere non dobbiamo seguire il bersaglio perché c'è un altro che ce lo lasera torniamo verso la nostra safe zone e nel frattempo guardiamo cosa sta facendo il nostro la nostra bombetta intesa come arma non come cappello lei colpisce mentre noi dall'altra parte ce ne stiamo fregando adesso facciamo una cosa estremamente simpatica e utile allora resettiamo tutto ci rimettiamo in modalità tv adesso facciamo uno sgancio della bomba in modalità loft cioè noi cosa facciamo arriviamo bassi e quindi protetti in linea generale sappiamo bene o male dov'è il mio bersaglio sappiamo che c'è qualcuno che ce lo sta laserando indipendentemente dal fatto che riceviamo il segnale o no sullo display lui sta laserando quindi c'è un'ottima probabilità che l'arma si lanciata nella direzione giusta vada ad agganciarsi e a colpire quindi noi cosa facciamo cominciamo a scendere a fare energia perché dobbiamo trasmetterla alla nostra bomba bassi e veloci andiamo per 182 che è la direzione del nostro bersaglio ci mettiamo in funzione LST vedete che siamo bassi quindi probabilmente non riusciamo a beccare subito vediamo dov'è il nostro bersaglio più o meno quando siamo vediamo là sull'orizzonte il bersaglio noi cosa facciamo siamo veloci appena superato questo lago tiriamo su quando siamo una quindicina di gradi di salita molliamo vedete la bomba è partita ed evadiamo vedete noi in questo modo siamo esposti il meno possibile agli attacchi e facciamo praticamente un attacco stand off con una bomba laser guidata vediamo cosa sta facendo la bomba se va a bersaglio noi nel frattempo evadiamo facciamo le nostre manovre tutto e boom bersaglio colpito missione alfa completata pacca sulla spalla a me e a tutti voi e possiamo tornare a casa in generale il bad delays se abbiamo la possibilità di avere un jtac oppure qualcuno che ci marca i bersagli da una posizione sicura per un aereo come l'arrier per la tipologia di missioni ma anche per esempio per la 10 è il modo più sicuro per effettuare una missione di close air support o una missione che prevede di arrivare vicino a un bersaglio di solito che si difende anche pesantemente semplicemente perché ci permette di esporci il minor tempo possibile togliamo il master arm ci rimettiamo in modalità crociera spegniamo l'st sensor select down ci possiamo anche mettere in modalità mappa e possiamo andare verso la nave come facciamo le altre volte entriamo in taccan inseriamo il taccan della nave e facciamo enter e on siamo in taccan e andiamo ad andare per 266 ecco qua il simbolino del taccan ripeto ripeto purtroppo ancora non è implementato correttamente il taccan non possiamo farci sopra utilizzare il course e non possiamo soprattutto fare il trasmittere il sieve quindi avere la distanza almeno col taccan della nave con gli altri si però ci serve più che altro come riferimento per sapere dove si muove ci mettiamo in corciera manetta 700 e si torna a casa siamo ancora abbastanza carichi appena arriviamo sul mare sganciamo tutto l'inutile un'altra cosa utile da sapere è che il motore pega sostente a scaldarsi quindi appena avete la possibilità cerchiamo di rimanere a regimi per una crociera tra i 750 e i 550 grosso modo una buona velocità di crociera è intorno ai 350 nodi 400 in questo modo non lo facciamo scaldare eccessivamente anche quando operate in combattimento fate finta di averci l'afterburner e considerate RPM sopra il 95% una specie fra virgolette di afterburner dell'arrier che non deve essere tenuto troppo facciamo il gettison delle armi quindi ci mettiamo su store abbiamo armi dentro selezionate gettison ecco che sono guardate siamo già in vista della flotta quindi rallentiamo e scendiamo la flotta che è sempre per 270 ok spingiamo l'arri che da fastidio in fase in fase di atterraggio di per l'arri il un l'arri è che siamo sotto i 4.000, poi quando saremo lì saremo già a 3.500, non ci dovrebbero essere problemi ad atterrare, quindi non abbiamo bisogno di fare il dump del fuel. E' un po' di più, ma è un po' di più. Possiamo anche scollegarci dal command center. PONTIAC 3-1, OVERLORD, BRA, 003460, ATT-19000, flanking. Ralentiamo ulteriormente e cerchiamo di rimanere in circuito sui 250 nodi. Passiamo davanti alla prova dell'era, oh, troppo lenti. E ci portiamo per 0-9-0, quindi direzione opposta. Per POPPAVIA. PONTIAC 3-1, OVERLORD, BRA, 0484100, ATT-19000, flanking. PONTIAC 3-1, OVERLORD, BRA, 004470, ATT-19000, flanking. 0-9-0, aspettiamo che il simbolino del TACAN, cioè quindi della direzione delle nave, sia intorno ai 30 gradi. Togliamo l'autopilota e cominciamo a fare la nostra virata in base e in finale. Ralentiamo. PONTIAC 3-1, OVERLORD, BRA, 3-1-3-4-70, ATT-23000, HOTS. PONTIAC 3-1, OVERLORD, BRA, 004470, ATT-23000, 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 HOTS. Ok, giriamo in finale. Carrello giù. Flap, WTOLE, Head up, WTOLE, e Nozzle a 30 ci andiamo a portare parallelo alla nave sulla mancina siamo sotto i 400 Nozzle a 60 no, sotto i 500 Nozzle a 60 Witch Hat sempre sull'orizzonte e utilizziamo la manetta per far salire e scendere il Velocity Vector quando saremo a 100 più o meno all'altezza delle sovrastrutture della nostra nave ci livelliamo e cominciamo a rallentare con Nozzles in Overstop che è 81 81, 82, 83, 80 insomma a seconda delle condizioni del vento rallentiamo rallentiamo alzando il muso quindi hat switch sopra l'orizzonte cerchiamo di rimanere stabili ok possiamo cominciare ad avvicinarci al ponte piccola traslazione pedale per raddrizzarci qui occorre pedale per raddrizzarsi ma nella realtà quando si trasla di solito il muso non si muove e scendiamo delicatamente ok tornati a casa sani e salvi mazzo la 10 flap su nvsi e facciamo il nostro taxi e andiamo nella nostra solita mattonella ok ci siamo cut off questo andrebbe tirato su però mi dimentico sempre di impostare il tasto chiudiamo tutto lo spegniamo e siamo a posto ci andiamo a vedere un po' di aria fresca perché di solito qua dentro a seconda del grande di spavento c'è sempre un tot di puzza ah mi ero dimenticato della Mario Seggiolina cazzo a posto finito la nostra missione sani e salvi non che ci fossero particolari pericoli e niente grazie per l'attenzione alla prossima ciao 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 Grazie a tutti